Grazie, grazie cari amici, grazie di essere qui oggi. Già gli interventi di Bruno Dappei e di Giuliano Pisapia credo che abbiano inquadrato compiutamente quello che è il ragionamento che vogliamo fare oggi insieme a voi. Quindi devo prima di tutto ringraziarvi, non posso ringraziare tutti ma la presenza di ognuno è veramente importante e significativa nel momento in cui crediamo di voler arrivare laddove l'interesse dei nostri cittadini ci porta ad arrivare e vogliamo traguardare questa città metropolitana come un obiettivo comune che va raggiunto. Un ringraziamento soltanto al direttore Giovanni Morandi, lo ringrazio molto, è stato per tanti anni direttore del giorno, adesso dirige il quotidiano nazionale, quindi i tre grandi giornali di Firenze, di Bologna e di Milano ha avuto la cortesia di essere qui e condurrà le due tavole rotonde. Grazie anche ai presidenti di molte, tra le province che hanno vocazione di città metropolitana, ci ha raggiunto prima di tutto Beatrice Draghetti, grazie di essere qui presidente di Bologna, Antonio Seitta, Giovanni Avanti, Andrea Barducci, credo che per adesso ci fermiamo qua, se non sbaglio. Ancora permettetemi di dire che il rispetto dei tempi è necessario in questa giornata perché il Presidente del Senato poi ha un impegno successivo e quindi cercherò di limitare me stesso, chiedo a tutti di poter fare la stessa cosa. Permettetemi soprattutto di dare lettura di un messaggio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Gentile Presidente, in occasione della giornata di lavoro dedicata al tema Costruire la città metropolitana, invio a lei, agli illustri relatori, a tutti i convenuti, un cordiale saluto e i migliori auguri per un profigo confronto su un aspetto di grande attualità per il governo del territorio. Giorgio Napolitano. Devo dirvi che con il Presidente della Repubblica io ho avuto occasione, ma anche altri Presidenti hanno avuto occasione di approfondire molto questo tema. Io ho condiviso con lui cinque anni intensi al Parlamento europeo dove eravamo due membri, i due membri sempre presenti e per caso due italiani. Lui Presidente della Commissione Costituzionale, io Vice Presidente del Parlamento con la delega ai rapporti con i Parlamenti nazionali e vedendoci anche recentemente lui ha continuato a dire guarda ti garantisco che Napoli è la città che ha più vocazione per la città metropolitana. Io che conosco Milano e non conosco Napoli gli dicevano guarda ti garantisco che Milano ha una vocazione antica e non è un caso che qui sia nato il piano intercomunale milanese più di 40 anni fa se non sbaglio. Perché? Perché obiettivamente il nostro è un territorio storicamente armato, ogni 20 chilometri da secoli vi è sempre stata una presenza forte sul territorio. Ormai lo sviluppo della conurbazione fa sì che vi sia un continuo, non c'è assolutamente distinzione e se prendiamo la strada per Sesto San Giovanni facendo il Viale Monza o si sta attenti a dove finisce Milano e comincia Sesto o non se ne accorge proprio. E questo è vero in tutte le direzioni. Allora dove noi dobbiamo oggi, questo è un momento di confronto di idee ma soprattutto di lavoro, vedo che il sindaco di Sesto San Giovanni è entrato proprio, ciao Giorgio, nel momento in cui parlavo della tua città. Dove noi oggi dobbiamo cogliere quello che è l'obiettivo necessario? Il tema è uno solo, qual è il vantaggio per i nostri cittadini nel momento in cui il governo metropolitano si attiva? Quali sono i servizi migliori che in base a un recupero di efficienza noi possiamo dare? Questo è il tema. Ebbene, credo che è già stato ricordato il percorso della Carta delle Autonomie, solleciteremo il Presidente del Senato perché voglia dare particolare attenzione in questa direzione, ma io credo che vi sia una chiave di lettura. Cos'è il governo metropolitano? Una distinzione chiara di chi fa che cosa. Poche materie fondamentali che non possono essere gestite al meglio a livello municipale, neanche a livello municipale del capoluogo, ma che devono essere portati a un livello superiore, in modo tale che non vi sia più una rindondanza di funzioni tra i comuni da un lato e il secondo livello, quindi oggi la provincia. Ebbene, i temi sono pochi, ma fondamentali per la vita dei cittadini. Il trasporto pubblico, infrastrutture e trasporto pubblico, prima di tutto, tutti i temi dell'ambiente, l'aria, l'acqua, i rifiuti, tutte cose che non si possono pensare di gestire a livello comunale. Il tema del lavoro, il tema della riqualificazione professionale, che poi oggi è uno dei temi forse fondamentali che preoccupa tutti noi, è evidente che torno a Sesto San Giovanni, se me lo permetti Giorgio, ma chi abita a Sesto San Giovanni non è che trovi il lavoro a Sesto San Giovanni, magari lo trovi a Milano o a Melignano e reciprocamente. Allora è chiaro che vi deve essere una regia di livello superiore. La pianificazione territoriale. Io non andrei molto oltre, perché credo che vi debba essere, ma questo sarà il lavoro che le commissioni che andiamo a costituire in base alla costruzione del comitato che con Giuliano Pisapia abbiamo annunciato venerdì scorso, credo che debba essere poi l'elemento per dare un'indicazione di quello che è, noi diciamo, un modello ambrosiano di città metropolitana, perché poi all'interno di una cornice è evidente, e qui guardo i miei colleghi delle altre città metropolitane, è evidente che esistono delle specificità di territorio. Con Antonio Saita ci siamo detti molte volte tra Milano e Torino vi è una forte similitudine, ma anche alcune importanti diversità di territorio. Allora su questo poi vi sarà, io credo, anche la possibilità di dare alcune caratterizzazioni. Vado molto rapidamente a terminare, perché ridendo e scherzando dobbiamo recuperare mezz'ora, io ho guardato la scaletta. Il tema è che poi il coinvolgimento massimo deve essere fatto, oltre che a livello di consigli comunali e provinciali, con i sindaci del territorio. Il comune, la provincia di Milano ha 133 comuni, oltre al comune di Milano, 1.800.000 persone vivono fuori dal capoluogo, 1.300.000 all'interno del capoluogo. E poi la partecipazione dei parlamentari. Qui saluto molti amici, colleghi parlamentari. È necessario che vi sia una coerenza, una condivisione di obiettivo, se vogliamo veramente che finalmente si faccia ciò di cui si parla da 40 anni. Allora a volte uno dice ma se ne hai parlato per 40 anni non riuscirai mai a arrivare in porto. Non è così. Esistono dei momenti in cui si può focalizzare un obiettivo, si può far sì che vi sia una condivisione ampia di forze politiche. E qui devo dire che finora almeno nessuna delle forze politiche si è opposto a questo progetto comune. Non è un caso, lo diceva Bruno Dappei, che vi sia stata l'unanimità di voto per quanto riguarda il consiglio provinciale. Il presidente Basilio Rizzo ci ha già detto una settimana fa di come vi sia una coerenza anche sul consiglio comunale di Milano. Nel momento in cui Giuliano Pisapia è stato eletto dai cittadini di Milano sindaco di questa città immediatamente ci siamo detti questo è uno degli obiettivi e rientra in una coerente modalità di affrontare insieme i temi importanti per i cittadini che tutte le istituzioni, tutti i momenti di rappresentanza dello Stato devono dare in modo convinto al di là delle appartenenze partitiche e al di là delle appartenenze politiche. Anzi, lasciatemi dire che il fatto di essere espressione di letture diverse, di forze politiche diverse, in qualche modo ci dà anche la garanzia di un coinvolgimento più ampio e quindi della possibilità di creare un momento di confronto che sia il più positivo possibile. Ho terminato, ce la faremo, dipende dalla nostra volontà di lavoro, mi sembra che ci sia tutta, gli obiettivi temporali che ci siamo dati e quello di arrivare nel giro di un anno ad avere una cornice definita, poi altri naturalmente affronteranno sia il tema storico che il tema giuridico istituzionale. Io dico soltanto, si possono fare le cose, siamo abituati a farle, l'obiettivo comune è condiviso, facciamo di tutto perché questa volta veramente si raggiunga l'obiettivo. Grazie. Grazie.